La Sardegna, dove ogni spazio apparentemente conquistato, nasconde un oltre che non si fa mai con gli immediatamente, conservando la misteriosa virginità delle cose solo sfiorate. Ho coltivato una speciale diffidenza per chi si compiace di dire sempre quello che pensa. Temo con ogni fibra quel tipo di persona che è pronta a scambiare per pensiero il moto causale di tutto quello che gli passa per la testa e chiama a sincerità l'incapacità di controllarlo.